amici trader buongiorno a tutti sono Stefano Vessicchio per la consueta analisi ciclica prima di cominciare volevo ricordarvi che per l'analisi uso il software Cycle Navigator di Eugenio Sartorelli chiunque voglia attivare una demo o avere informazioni può contattare appunto l'autore Eugenio Sartorelli tramite il sito investimenti vincenti investimenti vincenti.it bene veniamo a noi allora questa settimana come anche quella trascorsa è stata caratterizzata forti ribassi personalmente non ho nulla di nuovo da dire nel senso che io già al suo tempo pochi mesi secoli avevo detto che è probabile la conclusione di un ciclo a due anni questo è un ciclo a quattro anni come potete vedere un ciclo a due anni per cui confermo che secondo me sul minimo perché in questi giorni sui social ne ho lette di tutti i colori però io rimango della mia idea confermo che il praticamente sul minimo sul minimo del 2 gennaio è cominciato un nuovo ciclo intermedio che si è messo a ribasso anche se qui sembra che vedete che ci siano come due cicli fusi insieme come come da insegnamenti dell'ingegnere migliorino però per me questo ciclo questo ciclo quasi è concluso un 84 giorni adesso i cicli fanno una media di 90 80 90 giorni in qualche occasione anche di 100 per cui è semplicemente questo questo ciclo si è messo a ribasso questo a ribasso e secondo me ecco fino fino a maggio giugno ci sarà debolezza perché si dovrà concludere i due anni io ho preso l'euro stocks perché rispetto al dax è meno erratico come potete vedere che ha fatto un tripolo massimo pensavo che l'avrebbe fatto un po più su invece l'ha fatto un po più giù ma comunque questo non ha una importanza cioè ai fini dell'analisi come da tempo dico cioè poi le dinamiche dei sottocicli si devono andare a studiare ovviamente settimana per settimana se non giorno per giorno però come avevo ipotizzato e il resto della mia idea come avevo ipotizzato si sta concludendo un ciclo a due anni come come dice sempre appunto eugenio sartorelli le ipotesi vanno confermate con più strumenti allora questa mattina ho fatto una cosa che adesso vi faccio vedere allora questo io ho messo praticamente due regressioni lineari e una rappresentativa del ciclo a quattro anni è una rappresentativa del ciclo a un anno ho messo un grafico settimanale questa rappresenta un ciclo annuale come potete vedere e questa rappresenta un ciclo a quattro anni allora scusate avevo impostato avevo impostato fatto un'impostazione diversa allora ripilogando questa rappresenta il ciclo a quattro anni e questo è il ciclo a due anni non l'annuale eccola qua questa rappresenta il ciclo a due anni il ciclo che attualmente ci interessa ci interessa monitorare come potete vedere questo è un grafico a barra settimanale questo è un oscillatore di prezzo e questo oscillatore rappresenta il ciclo a quattro anni vedete allora questo ciclo a quattro anni io per convenzione anche per comodità che sarebbe un po' lungo spiegare che spiego comunque nei corsi io l'ho fatto cominciare il 28 maggio del 2012 qui ha fatto un primo quattro anni vedete che si è concluso sul minimo sulla settimana no sul minimo perché questo è settimanale sulla settimana del 20 giugno 2016 vedete qua si è concluso un ciclo a quattro anni adesso qua è partito un altro ciclo che attualmente è quasi arrivato a due anni vedete due anni li fa i due anni li fa praticamente qua me lo da per la settimana di luglio vedete per la prima settimana di luglio mi dice che si concluderà probabilmente questo ciclo a due anni per cui di fatto sta che secondo me qui è cominciato un nuovo ciclo intermedio che si è messo a ribasso e probabilmente vedete questa questa è la trend line che tiene a rialzo che poi praticamente sarebbe alla fine se qui ha fatto un ciclo a quattro anni a quattro anni questo questo a sua volta sarà la trend line che regge che regge a rialzo tutto quanto il ciclo del quattro anni qui praticamente è partito un ciclo a due anni io mi potrei anche aspettare che a questo punto possa toccare la la trend di medio periodo lo ritengo non molto probabile io ecco io ritengo che si può essere può essere che per luglio la la vada a testare ma poi poi da giugno luglio riprenderà una forte fase di arsista secondo me una forte fase di arsista che andrà a superare questi massimi quindi come potete vedere qua la regressione lineare ha cambiato colore vedete qua la regressione ha cominciato a cambiare colore il ciclo a quattro anni qua ha cambiato colore si è messo praticamente si è messo a ribasso per cui ecco come vedete il prezzo si è allontanato dalla regressione per cui io ritengo che questo ultimo ciclo intermedio vada a chiudere questo ciclo a due anni entro giugno luglio questa questa praticamente è la mia ipotesi che conferma comunque quello che ho già avvocato e che da tempo dico solo che poi ci sono delle variabili da tenere in considerazione e per cui poi volta per volta vado che data questo vale anche per il dax e dax non l'analizzo perché è più erratico come indice quindi l'aerostox è più affidabile quindi cosa potremmo aspettarci per i prossimi giorni di sicuro ci sarà un rimbalzo adesso ho tracciato questa aspettate un attimo ecco l'ho tolto altrimenti era si potrebbe andare in confusione io qua adesso mi aspetto un imbalzo delle quotazioni aspetto un imbalzo delle quotazioni probabilità è scenario 3460 e poi per giugno un ulteriore discesa che però sarà più morbida secondo me ci sarà ci sarà una attenuazione di volatilità io non considero molto i target price più che altro vado a forza vado a forza come appunto dice Eugenio Sartorelli perché perché ritengo che la dinamica vada studiata sul momento perché io sfido chiunque a ipotizzare un movimento così con questa volatilità è a quanto difficile uno quasi può mettere in posizione short però qua di posizioni short ecco vedete qua per esempio fattori basso ma con una volatilità minima due settimane a questo modo penso che sia ecco giusto qualche mago penso che che ci riesce perché mi aspetta alcun imbalzo e poi di nuovo fase di debolezza almeno fino a giugno allora questo è ls p500 ls p500 come ho sempre detto è sfasato rispetto all'europa infatti ls p500 e dovrebbe concludere circa due anni la prossima settimana perché su un indice europei c'è questo ciclo che invece sta sta messo a ribasso invece qui sta messo a riarso per cui è sfasato di un intermedio rispetto all'europa per cui ecco io mi aspetto a ribasso fino secondo me farà andare anche giù giù più pesantemente rispetto all'europa però però sarà il primo che poi dopo riprenderà appunto la strada di rialzo come potete vedere il ciclo a quattro anni e di qua è diventato rosso come potete vedere la cioè questo rappresenta il ciclo a quattro anni però diventando rosso ha intercettato appunto una debolezza del prezzo come potete vedere qua il ciclo a due anni ancora deve dare vedete non ha nemmeno cambiato a colore sono ancora tutti a rialzo perché l'SP500 è una macchina da guerra non è un indice secondo me è andato solo su e basta per quanto riguarda il Nasdaq vale lo stesso per l'SP500 io mi analizzo l'SP500 perché è meno erratico a livello ciclico allora veniamo al Bund il Bund potrebbe aver concluso sul minimo dell'8 febbraio un ciclo intermedio qua ha fatto un partner dell'ingegnere Migliorino una lingua di Bayer in cui ho attestato il minimo precedente e se avverrà la rottura di 159 e 18 si avrà la conferma che qui sarà partita una nuova fase ciclica come potete vedere è abbastanza chiaro c'è stato diciamo adesso abbastanza chiaro perché io sembra che quando stavo qua avevo utilizzato una partenza di un ciclo invece questo qua continua andando a ribasso perché d'altronde succede anche questo altrimenti bisognerebbe avere la sfera di cristallo bene per cui per il Bund io suppongo che dalla prossima settimana ci potrebbe essere una ripresa delle quotazioni bene ora passiamo all'orotallaro come potete vedere finalmente è cominciata la chiusura ciclica di questo messino e probabilmente chiuderà anche un ciclo intermedio io suppongo che scenda un altro po' e poi potrebbe ripartire una nuova fase ciclica e questo praticamente è un ciclo è un ciclo intermedio ci andiamo a vedere due anni ecco questo è due anni chi mi segue lo sa su due anni io avevo ipotizzato poi una ulteriore fase cioè una chiusura di questo ciclo mensile e questo ciclo mensile è intermedio poi potrebbe esserci una ripresa delle quotazioni fare un altro massimo fare un altro massimo e poi dopo andare a chiudere il ciclo a due anni questo è quello che è quello che penso poi invece qualora questo massimo non venga più superato e allora è probabile che ci sarà un periodo che potrebbe essere più più di debolezza però questo poi adesso vediamo questo ciclo intermedio dove chiude e quando riparte dove farà il suo primo massimo e poi dopo si stabilirà purtroppo è così tante volte per avere per avere delle conferme bisogna aspettare che il prezzo fa il suo corso e poi si ipotizza quale potrebbe essere l'andamento futuro bene detto questo io vi ringrazio a tutti appunto per a chiunque mi segui a tutte quante le persone che appunto mi chiedono mi fanno delle domande i complimenti ringrazio tutti per i vari apprezzamenti per il mi piace e niente come dico sempre queste analisi sono frutto dei miei studi come avete visto il disclaimer all'inizio chiunque chiunque farà operatività reale in base a queste segnalazioni lo fa esclusivamente a suo rischio e pericolo queste analisi le posso esclusivamente per chi vuole fare delle operazioni in demo con conti dimostrativi per cui non ha nessun tipo di investimento bene vi auguro un buon fine settimana e buon trading